La prima relazione è presentata da Enrico Vidoni, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Il gruppo di lavoro a nome del quale lui parla e che lui dirige è composto da Damiano Angelini, Bocchicchio ed Elena Del Rio e presenta appunto il lavoro che era appena stato citato da Botticelli, cioè il risultato di un'attività che ha coinvolto un certo numero di centri in Italia su questa tematica attraverso un finanziamento della Fondazione Telecom Italia. Prego Enrico e grazie. Grazie. Prima di cominciare devo portarvi il saluto della dottoressa Marcello, che è la direttrice della struttura di neurologia di cui io faccio parte nell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, la quale non ha potuto essere qua per una indisposizione. Voi sapete che l'Arcispedale Santa Maria Nuova, dove io opero, che è anche co-organizzatore di questo convegno, è la sede in cui viene svolta l'attività clinica diagnostica sui dislessici adulti, tramite una convenzione insieme con l'Università di Modena e Reggio Emilia a partire ormai dal lontano 2008 e che poi ovviamente ha potuto svilupparsi in maniera importante proprio in seguito al progetto Diagnosi. Questo progetto dell'Associazione Italiana di Islessia della Fondazione Telecom Italia, che l'ha finanziato, che ha cercato di affrontare l'emergenza Diagnosi per le persone con disturbi specifici di apprendimento che hanno più di 18 anni. Noi sappiamo che la Diagnosi, in seguito alla legge 170, è diventata fondamentale per avere diritto alle misure di supporto previste appunto dalla legge che garantiscono quindi un percorso scolastico il più possibile adeguato per questi ragazzi e purtroppo però per ragazzi che hanno più di 18 anni vi è un'assenza di risorse diagnostiche che rende quasi impossibile proprio l'applicazione della legge. Cioè abbiamo una legge che forse anche in controtendenza con quello che è l'andamento della nostra società garantisce dei diritti, promuove il benessere delle persone e però si scontra contro il fatto che non essendoci le risorse diagnostiche viene vanificato per certi versi l'effetto di questa legge proprio perché le risorse diagnostiche sono indispensabili per poter poi avere diritto a ciò che la legge prevede. Quindi questo è un problema secondo me che ancora forse non è percepito nella sua criticità a livello di sensibilità sociale in maniera adeguata. Noi sappiamo che la diagnosi deve essere fatta in strutture pubbliche secondo la legge e per giunta deve essere aggiornata periodicamente per esempio è previsto che ci sia l'aggiornamento nel passaggio da un ordine di scuola a un altro e nel caso che la persona sia all'università è previsto che la diagnosi non sia più vecchia di tre anni. Non solo, c'è un altro nel documento della conferenza Stato-Regioni e ha anche detto che la diagnosi deve essere aggiornata ogni volta che la scuola o la famiglia lo ritengono necessario. Quindi questo significa che le richieste diagnostiche stanno aumentando a dismisura. Quindi questo crea ancora di più un problema. Noi sappiamo che la diagnosi dovrebbe rispondere a certi requisiti, dovrebbe essere fatta secondo certe regole che sono state enunciate dalle consensus conference, qui vedete quelle che sono state poi anche adottate dalla conferenza Stato-Regioni. Sostanzialmente è necessaria una diagnosi efficace, che sia qualitativamente adeguata e soprattutto anche tempestiva, perché se c'è da aspettare mesi o anche a volte un anno per avere la diagnosi è chiaro che nel frattempo il destino scolastico o accademico di una persona può subirne dei danni a volte veramente molto gravi a livello di percorso. Il progetto diagnosi che si è svolto tra la fine del 2012 e l'inizio di quest'anno ha riguardato sia gli adulti sia anche in parte l'età evolutiva e praticamente sono state istituite una serie di borsi di studio, di contratti in diversi centri italiani che vedete su questa cartina. In totale questo progetto ha prodotto circa 2000 diagnosi, in un anno, e per quanto riguarda l'età adulta sono state circa 1200 le diagnosi prodotte, quindi che nella realtà italiana sicuramente incide notevolmente, proprio anche percentualmente, sul numero di diagnosi presenti in Italia. Vi ricordo che per esempio nelle scuole italiane sono presenti attualmente circa 80.000 diagnosi, mi sembra, che è comunque una cifra estremamente più bassa di quella che è la realtà epidemiologica stimata del problema, che dovrebbe essere perlomeno intorno ai 300.000-400.000 studenti che hanno questo tipo di problemi. Questo è l'elenco dei centri che sono stati coinvolti nella diagnosi adulti, vedete, erano distribuiti in varie regioni italiane, in particolare Torino, l'ASL 3, a Varese, presso l'Università dell'Insubria, a Milano presso l'azienda ospedaliera Niguarda, a Granda, a Reggio Emilia, appunto, presso l'ospedale Santa Maria Nuova, a Roma presso l'IRCS San Raffaele alla Pisana, e infine a Messina presso l'azienda ospedaliera universitaria del Policlinico Martino. Che cosa è stato fatto in questo progetto? È stato applicato un protocollo diagnostico, per la prima volta su larghissima scala, che comprendeva una serie di elementi rispondenti più o meno a quelle che sono le indicazioni della consensus conference, delle varie consensus conference che negli ultimi anni si sono svolte riguardo alla diagnosi per i DSA. Questo protocollo comprende una intervista anamnestica guidata, poi la somministrazione di una batteria di test neuropsicologici, la somministrazione anche di scale e questionari di valutazione affettivo-comportamentale, dopo adesso li vedremo in maniera più dettagliata, infine c'è un colloquio di restituzione e la redazione di un referto che deve rispondere alle indicazioni della conferenza Stato-Regioni riguardo a come appunto devono essere fatte le diagnosi. La intervista anamnestica guidata è un'intervista che è basata su una serie di elementi che qui molto sommariamente vi ho elencato, si fa un'indagine sulla motivazione della richiesta, si valutano la presenza di precedenti valutazioni o diagnosi precedenti, se c'è una familiarità per disturbi specifici di apprendimento, poi si analizza la storia personale della persona che abbiamo davanti, sia per gli aspetti sanitari sia per gli aspetti scolastici, partendo dallo sviluppo motorio e linguistico, valutando i problemi scolastici e la loro evoluzione nel percorso, quindi si raccolgono le informazioni riguardo alla presenza di debiti, di bocciature, di cambi di scuola, quali sono infine le difficoltà attuali per fornire una risposta che sia adeguata alla situazione attuale della persona, quali sono i suoi metodi di studio e di apprendimento, le sue abitudini di lettura, che sono un elemento pure importante per caratterizzare la situazione, e infine se usa già degli strumenti o delle strategie per migliorare le proprie performance. Chiaramente l'intervista è guidata, però viene personalizzata, perché ogni persona può avere degli aspetti spropri e particolari. In particolare si valuta anche la ricaduta delle proprie difficoltà sulle relazioni sociali della persona e la ricaduta sulle attività del lavoro nel caso che la persona che abbiamo davanti fosse già in attività lavorativa. La batteria di test neuropsicologici, invece, comprende una serie di prove. Si parte da un questionario per l'adulto che valuta soggettivamente la presenza di determinati sintomi che possono far pensare a un disturbo specifico di apprendimento ed è la DCL, Adult Dyslexia Checklist, di Vinegrat. Si somministrava anche una prova per il mancinismo, poi un test di intelligenza non verbale, che sono le matrici di Raven 38. Infine le prove specifiche per le abilità scolastiche, che comprendevano prove di lettura, la lettura di coppie di allografi, la lettura di parole, la lettura di liste di non parole e infine la lettura di un brano. Per tutte queste prove di lettura si valutava sia la velocità che il numero di errori. A seguire una prova di comprensione di un brano, comprensione della lettura, silente, poi prove di scrittura, la scrittura di parole, la scrittura di non parole e un dettato in modalità, cosiddetta incalzante, cioè una modalità che permette di evidenziare meglio i problemi di una persona che ha appunto un disturbo specifico di apprendimento, in quanto che mentre uno sta scrivendo lo si incalza dicendogli le parole successive che deve continuare a scrivere. infine si somministrano prove di calcolo, calcolo a mente, calcolo scritto e prove dei fatti aritmetici. In un certo numero di casi si aggiungevano anche questi altri test che riguardano altri aspetti collaterali come la denominazione visiva tramite il test Boston Naming, la fluenza lessicale tramite prove di fluenza per categorie fonemiche, per categorie semantiche, una prova di denominazione rapida di lettere, di cifre e di colori, poi delle prove di memoria a breve termine che misuravano lo span di parole, lo span di cifre e lo span di cubi di corsi, cioè lo span spaziale, alcune prove di attenzione come le matrici attentive, il test night and day e poi una prova spaziale come l'orientamento delle linee di Benton e infine il conteggio all'indietro che è un'altra prova che è abbastanza sensibile ai disturbi specifici di apprendimento, il conteggio all'indietro dal 100 a 1. Chiaramente oltre questo a volte era necessario a applicare un approccio metodologico di tipo prettamente neuropsicologico e visto che eravamo di fronte ad adulti bisogna attingere a tutto il grande armamentario degli strumenti di analisi neuropsicologica disponibili per l'età adulta che sono sicuramente molto più estesi e anche molto più sviluppati rispetto a quelli che riguardano l'età evolutiva. Vedete questo è proprio il testo che prende in rassegna tutti gli strumenti disponibili nella realtà italiana che è appunto un testo che abbiamo redatto noi col mio gruppo a Reggio Emilia ed è un testo ufficiale della società italiana di neuropsicologia. Dicevo che vengono somministrate anche delle scale affettivo-comportamentali in particolare una scala per la depressione una per l'ansia e infine una indagine denominata Diana è uno strumento ideato dal dottor Fulgeri che ne parlerà poi oggi pomeriggio uno strumento che riguarda la percezione dei disturbi e l'indagine di sé la narrazione di sé in rapporto ai disturbi e quanto questi disturbi possono influenzare anche la costruzione dell'identità personale. vediamo rapidamente i risultati il progetto si è chiuso a marzo 2014 quindi diciamo che abbiamo solo una parte dei risultati sicuramente è una miniera pensate a un database di 1281 casi questo significa avere una miniera da cui si potranno nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni estrarre tutta una serie di informazioni importanti per conoscere il fenomeno dei DSA nell'adulto. Vedete che la distribuzione maschi-femmine è abbastanza equilibrata c'è una modesta prevalenza di maschi quindi queste sono le vecchie indicazioni secondo cui la dislessia era un problema soprattutto dei maschi rispetto alle femmine in realtà viene abbastanza superata come anche risulta da altre indagini in altri contesti in età evolutiva. Un dato molto significativo della realtà italiana è quanti di quelli che si sono presentati ai nostri centri per la diagnosi avevano già una diagnosi pregressa di disturbo specifico di apprendimento erano solo il 40%, 39,6% senza diagnosi il 60% quindi questo vi dà un'idea dell'iceberg della dislessia in Italia in cui la parte emersa è veramente ancora minima rispetto all'entità del problema. Il dato sulla familiarità pur è molto significativo viene confermato un dato di letteratura cioè c'è un 40% circa di persone che nella propria famiglia avevano avuto altri probabili disturbi specifici di apprendimento una percentuale molto alta ma che è in linea con i dati della letteratura. Vedete questa è la distribuzione per età in cui ovviamente prevalgono nettamente i ragazzi dai 18 ai 24 anni perché ovviamente lì è il problema enorme della scuola, dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e dei primi anni dell'università. Poi ci sono anche le altre classi di età però sicuramente a dei livelli molto molto più bassi anche se comunque vedete che sono ben rappresentate fino ai 50 e abbiamo anche dei soggetti oltre ai 50 qualche sessantenne l'abbiamo anche visto per non dire di un, che conosce bene Giacomo di un settantottenne che alcuni anni fa che adesso ne ha più di 80 a cui abbiamo fatto la diagnosi di dislessia alla bella età di 78 anni più o meno. La professione, vedete, il 60% di quelli che sono stati visti presso i centri del progetto diagnosi sono ovviamente studenti poi 67%. Poi ovviamente ci sono tutte le altre categorie impiegati 10%, 9% altri professionisti c'è anche un 5% di disoccupati sarebbe interessante vedere rispetto a qualche anno fa è cresciuta la percentuale di disoccupati ma non abbiamo questo dato. Comunque ci sono tutte le categorie professionali. La motivazione la motivazione per cui vengono a richiedere una diagnosi questo è un dato molto interessante perché vedete al primo posto con un 29% quindi quasi un terzo dei casi è un problema viene messo come prima causa prima motivazione la consapevolezza personale la voglia di sapere perché uno sta funzionando in questa maniera ha queste difficoltà al di là quindi di quelli che possono essere i motivi pratici di percorso scolastico che comunque sono molto importanti perché vedete il 21% è finalizzato per esempio all'esame di maturità un altro 19% al percorso universitario e un altro 19% ancora la semplice ammissione ai test per l'accesso all'università poi ci sono anche altre motivazioni molto meno frequenti come lavoro scuole serali concorsi la patente e così via vediamo rapidamente le diagnosi che sono emerse in questi 1281 soggetti che sono stati visti presso i nostri centri vedete nel 63% di loro è stata fatta diagnosi di dislessia il 55% di disortografia segue la discalculia con il 44% la disgrafia con il 20% poi ci sono altre situazioni come il disturbo di comprensione del testo molto più raro la DHD il disturbo specifico di linguaggio e infine abbiamo trovato circa un 13% di situazioni perfettamente nella norma questo vuol dire che sostanzialmente quasi l'85% più o meno anche un po' di più di quelli che si rivolgono per una diagnosi lo fanno a ragione veduta viene confermato il sospetto molte volte sono più bravi a farsi da diagnosi loro da soli che non le persone tecnici a cui si sono rivolti in passato questo è un dato su cui meditare queste diagnosi sono molto spesso associate fra di loro infatti vedete la percentuale se si fa la somma è molto superiore a 100 se andiamo a vedere quali sono i disturbi isolati i disturbi isolati sono abbastanza rari non più del 10-15% vedete c'è la dislessia in tutta la casistica solo 98 casi di dislessia isolata 29 di disortografia isolata e 61 casi di discalculia isolata quindi diciamo che la stragrande maggioranza delle persone adulte con DSA continua a presentare un'associazione di più disturbi associati fra di loro vedremo anche dopo come sono queste associazioni qui vediamo più o meno le stesse cose però in questa tabella vengono considerati la suddivisione anche per sesso maschi e femmine e qui emergono anche dei dati abbastanza interessanti soprattutto per quanto riguarda i disturbi isolati in cui vedete che la discalculia è un problema che riguarda soprattutto le femmine 21% versus il 7% quindi tre volte più discalculici tra le ragazze rispetto ai ragazzi al contrario invece i maschi sono soprattutto disgrafici due volte rispetto alle femmine e disortografici un dato anche in contotendenza è che la dislessia per esempio qui nei disturbi isolati sembra un po' più frequente nelle femmine rispetto ai maschi questo è un dato abbastanza interessante qui vedete le associazioni tra i sintomi vedete la situazione in assoluto più frequente che riguarda circa 250 di tutti i casi visti sono soggetti che hanno i tre disturbi principali dislessia disortografia e discalculia assieme subito dopo segue poco più di 150 casi con dislessia più disortografia poi abbiamo ancora per un centinaio di soggetti la dislessia c'è la disortografia e la disgrafia ma non la discalculia poi c'è la dislessia isolata un centinaio di casi e così via qui ci sono tutte le combinazioni vedete che comunque prevale nettamente la presenza di situazioni sempre di complessità e di comorbilità di più disturbi assieme abbiamo valutato la sensibilità dei vari test per adesso i dati riguardano solo le prove di lettura fondamentalmente la sensibilità per la diagnosi considerando in questo caso la soglia delle due deviazioni standard oppure per quanto riguarda gli errori il quinto percentile e vediamo che sostanzialmente per considerando tutta la casistica sostanzialmente quello che emerge è un dato per certi versi in controtendenza cioè il fatto che rispetto alla letteratura il brano diventa lo strumento più sensibile per la diagnosi vedete il 63% per il tempo il 60% circa per gli errori se però consideriamo invece la dislessia isolata da sola lo strumento più sensibile rimane la lettura di non parole la lettura di non parole quindi potremmo da questo dedurre che la dislessia quando si presenta isolata è un disturbo probabilmente proprio puramente fonologico ma su questo insomma poi si può discutere adesso forse non è il caso di addentrarci ovviamente per quanto riguarda le sensibilità la comprensione è abbastanza bassa il livello di sensibilità 37-38% secondo che si consideri quella forma di dislessia isolata oppure in comorbidità ovviamente per quanto riguarda il calcolo non trattandosi di dislessia in tal caso è chiaro che la sensibilità è abbastanza bassa molto sensibile anche nella dislessia è la prova di dettato gli errori nella prova di dettato vedete che raggiunge addirittura l'85% nel caso di comorbidità mentre invece ovviamente precipita il 27% nel caso che la dislessia sia isolata ma questo è chiaramente una tautologia perché ovviamente se non c'è la disortografia non ci saranno gli errori nel dettato questa è la stessa tabella che abbiamo provato a fare considerando non due deviazioni standard ma 1,5 deviazioni standard considerando che nell'adulto la situazione può essere compensata e quindi emergere meno facilmente se usiamo la soglia molto rigorosa delle due deviazioni standard e vedete che quello che succede ovviamente aumenta nettamente la sensibilità è ovvio però per quanto riguarda i rapporti di sensibilità tra le varie prove si conferma esattamente il pattern precedente cioè con il brano che è più sensibile nel caso di dislessia e incomorbilità e invece la lettura di non parole che è più sensibile in caso di dislessia isolata la la cosa interessante della dislessia isolata è che oltre ad essere molto sensibile il tempo di esecuzione della lettura di non parole però gli errori non lo sono cioè questi dislessici isolati sono lenti nella lettura di non parole ma non fanno molti errori nella lettura di non parole anche questo è un dato su cui si può ovviamente fare delle deduzioni e delle discussioni mi avvio un po' alla sintesi di quanto abbiamo finora riscontrato la diagnosi di DSA è confermata in circa l'85% dei casi che richiedono una valutazione in età adulta c'è un'alta prevalenza di nuove diagnosi cioè il 60% sono nuove diagnosi c'è un'elevatissima comorbilità tra i vari disturbi oltre l'80% dei casi ha almeno due disturbi le forme isolate sono abbastanza rare intorno al 15% sul totale la maggior parte delle richieste proviene da studenti 67% e sono nella fascia di età ovviamente 18-24 vi è una molto lieve prevalenza di maschi fra tutti i DSA per i disturbi isolati invece si verificano delle situazioni abbastanza interessanti la prevalenza di femmine sia per la dislessia con un rapporto di 1,5 a 1 nelle forme isolate 1,5 femmine per un maschio e ancora più per la discalcolia in cui le femmine sono 3 a 1 i maschi invece sono più spesso disgrafici con un rapporto 1 a 2 1 femmina 2 maschi o disortografici con un rapporto abbastanza simile la motivazione per la richiesta abbiamo visto per certi versi sorprendentemente non è sempre il percorso scolastico universitario ma la motivazione della consapevolezza personale le difficoltà scolastiche infatti sono spesso vissute con un forte disagio emotivo anche se solo raramente sfociano in realtà in una vera situazione psicopatologica su questo ovviamente rimando agli interventi del pomeriggio e non mi soffermo anche perché non ho neanche presentato dati al riguardo i test più sensibili come abbiamo visto per la diagnosi di dislessia nell'adulto sono la lettura di brano per la dislessia in comorbilità la lettura di non parole per la dislessia isolata da cui l'ipotesi dislessia isolata uguale a disturbo puramente fonologico nella dislessia isolata gli errori sono molto meno frequenti che nelle forme in comorbilità secondo noi questi dati confermano l'efficacia degli strumenti diagnostici che abbiamo utilizzato in particolare si può concludere che una combinazione di pochi strumenti diagnostici come le tre prove di lettura parole non parole e brano più la prova di comprensione è sufficiente per arrivare ad una diagnosi di dislessia e se aggiungiamo almeno una prova di scrittura e una prova di calcolo possiamo individuare almeno a grandi linee la presenza di un altro disturbo cioè una discalculia oppure una disortografia una disgrafia questo ovviamente la possibilità di produrre diagnosi veloci tempestive che non richiedono mesi per essere concluse è molto importante e credo che sia uno dei risultati importanti anche della instaurazione di una nuova prassi di lavoro che è necessario appunto applicare se vogliamo che il lavoro dei tecnici che fanno la diagnosi abbia delle ricadute pratiche importanti per il benessere delle persone per il cosiddetto empowerment personale vorrei concludere con alcune considerazioni più generali al di là dello studio del progetto diagnosi la problematicità della situazione italiana in cui abbiamo norme nazionali e contemporaneamente abbiamo norme regionali riguardo alle diagnosi che a volte non sono assolutamente omogenee fra di loro per esempio il grosso problema delle diagnosi nelle strutture private che voi sapete per esempio la regione Lombardia autorizza le scuole ad accettare anche le diagnosi fatte da privati purché rispondenti ai criteri della consensus conference invece in altre regioni come per esempio anche l'Emilia-Romagna è necessario una specie di convaluta la conformità da parte di una struttura pubblica e qui si pone il problema chi lo fa visto che centri che fanno la diagnosi per l'adulto ce ne sono pochissimi per non dire quasi nulla negli ultimi tempi fra l'altro si assiste al fenomeno per cui le strutture pubbliche di neuropsichiatria infantile quando un ragazzo ha 18 anni o a volte anche prima che dice beh tanto noi abbiamo una lista d'attesa di un anno quindi adesso ce n'ha 17 quindi è inutile che lo mettiamo in lista perché poi quando arriva ce ne ha già 18 e quindi noi non possiamo vederlo non gli possiamo fare nessuna valutazione vabbè sono modi anche forse di difesa contro il super lavoro però fatto sta che non si risponde ad una esigenza importante non vi sono quindi strutture pubbliche che fanno diagnosi a oltre i 17 anni ci possono essere delle soluzioni in progress qui non ho messo un punto interrogativo che forse ci voleva nel titolo della slide vabbè abbiamo visto che l'accreditamento di strutture private in Lombardia o anche in Umbria per esempio sembra che sia stato fatto ci sono altre soluzioni per esempio il Veneto autorizza le neuropsichiatrie infantili a fare la diagnosi anche sugli adulti allora perché se succede in Veneto questo dogma per cui le neuropsichiatrie infantili non possono vedere un ragazzo quando ha più di 17 anni forse non è un dogma così assoluto un'altra soluzione che abbiamo visto svilupparsi è quella delle diagnosi cosiddette interne ho detto cioè delle università che per i propri studenti si sono dotate di servizi che fanno anche diagnosi e questo è un esempio per esempio dell'università di Padova che è stata la prima e ne parlerà il professor Cornoldi poi c'è anche l'università di Pharma che fa questo e credo che si stia avviando anche a Napoli qualcosa del genere non so però certamente questo risolve il problema solo per gli studenti universitari ma c'è tutto l'esercito degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che invece rimane scoperto le strutture pubbliche per adulti quelle che hanno partecipato al progetto diagnosi che sono di solito dislocate presso unità operative di neurologia o di psicologia e come sono messe Reggio Emilia siamo ancora in attività ma altri centri del progetto diagnosi hanno concluso o hanno fortemente ridotto pur mantenendo una piccola quota di attività e questo succede a Milano a Torino e anche a Messina certamente non è sufficiente per far fronte a quello che è la richiesta in Italia per finire vi ricordo i collaboratori del progetto a Reggio Emilia Damiano Angelini Sara Bocchicchio Elena Del Rio e Gianmarco Fulgeri a Milano la professoressa Gabriella Bottini e la dottoressa Laura Paganelli a Varese Cristiano Termine e Chiara Luoni a Torino Barbara Mantovani e Alessandra Manassero a Roma Giacomo Stella e la dottoressa Federica Norveti e infine a Messina Antonella Gagliano e Massimo Ciuffo vi lascio con l'immagine della struttura di neuropsicologia in cui vedete l'aureola scende sulla testa del dottor Angelini che attualmente è l'unico che sostiene l'attività diagnostica più o meno quasi l'unico che sostiene l'attività diagnostica sui dislessici adulti abbiamo anche all'altra estremità le dottoresse Del Rio e Bocchicchio che sono state le titolari delle borse di studio del progetto di agnosi e che quindi hanno collaborato la raccolta di tutti i dati che avete visto in ultimo bisogna ringraziare ovviamente la fondazione Telecom Italia che ha reso possibile tutto questo e l'associazione italiana dislessia che ha fornito il supporto gestionale organizzativo grazie